direi di fare un giro rapido per vedere tutte queste bellezze qui c'è idrogeno la macchina è fatta da zero, è fatta costruita quindi vuol dire che l'obiettivo è quello di mettere su un progetto la macchina è fatta la macchina è fatta le rotelle laterali, potrebbe essere più stabile ma in realtà, chi si va veloce, chi si è stabile il problema è quando si deve fermare le fate estraibili solo quello è proprio un giro veloce tanto per vedere cosa c'è da vedere gran turismo, spettacolare se capita lo sbaglio succede però qua ci si gioca il tutto per tutto in 6 giuri quando ci siete abbiamo due pilotti abbiamo già detto, giusto Renato? corrona insieme quindi ne abbiamo ok, quindi facciamo la pelle per gli altri siamo al culo delle quattordici e un po' e allora, mi hai detto Renato che ci sono che corrono insieme chi? L'area e Lorenzo, quindi mancano Jacopo e Elisa Jacopo e Elisa Jacopo zuccheri e Elisa pagliazzo Jacopo, Jacopo c'è questo sono rimasto senza parole e allora, vi inviate tutto eccezionale a questa a questa a questa a questa Grazie a tutti. Qui si stappa e Torino comunque sempre bella, meno male che non fa il caldo dell'anno scorso. Grazie.